Tomasi Plus, cos'è? Noleggio e acquisto in un'unica soluzione. Auto di proprietà, canone unico e alle altre spese pensiamo noi. Dopo quattro anni la riacquistiamo, con una super valutazione. Su quale auto le interessa Tomasi Plus? Tutte. Abbiamo 4.000 auto? Sì, possono bastare. Scopri Tomasi Plus in concessionaria. Tomasi Plus, benvenuto nel futuro.